sembra che ci siamo model 3 refresh o più o meno come la vogliamo chiamare sta arrivando poi una novità per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento software e novità interessante sul configuratore a tra poco bentornati a lampi di tesla eravamo rimasti un po indietro tra il mio viaggio e condizioni salute non proprio ottimali ma siamo tornati e siamo tornati alla grande perché abbiamo parlato tante volte dei rumors riguardanti un aggiornamento di model 3 ormai se ne parla da oltre un anno sembrava che dovessero arrivare già un anno fa ma sembra che effettivamente ci siamo perché ormai le indicazioni sono chiarissime tra l'altro proprio ieri è uscito un rumor una chat rubata degli impiegati di shanghai che sembra che proprio il 14 di agosto cambierà la linea di riproduzione di model 3 ma vediamo un po qual è l'altro indizio perché attualmente intanto tesla sta cercando entro fine agosto di vendere il più possibile delle auto in pronta consegna ma questo vale sia per model y che per model 3 ma oltre a questo togliendo le pronte consegne se noi andiamo nel configuratore di model 3 possiamo vedere che ormai le prime model 3 disponibili arrivano a ottobre beh siamo inizio agosto ottobre è un lasso di tempo particolarmente lungo in particolare sul configuratore abbiamo per le standard range le trazione posteriore e le long range ottobre novembre e se andiamo sulle performance addirittura andiamo tra novembre e gennaio a questo punto mi viene da dire con una discreta certezza che probabilmente da ottobre avremo qualcosa di nuovo ma quali sono quindi le considerazioni da fare se avete già ordinato una model 3 siete in attesa oppure siete in procinto di ordinarne una ora vi do la mia personalissima opinione ovviamente se trovate o avete ordinato una pronta consegna scontata magari in particolar modo magari le performance che hanno uno sconto non indifferente e magari la state comprando anche utilizzando il tasso di interesse di finanziamento particolarmente basso che ormai è al 3 per cento ecco probabilmente questo acquisto vi fa risparmiare qualche migliaio di euro e quindi probabilmente vale la pena continuare con l'acquisto poi ognuno la pensa come vuole un altro fattore da considerare è che a ottobre non è detto che intanto la macchina vi piaccia perché magari cambia effettivamente oppure cambierà pochissimo non possiamo saperlo e poi non sappiamo il prezzo sicuramente tornerà a prezzo pieno del listino attuale quindi io mi scorderei le performance a 5 6 mila euro di sconto come adesso e non sappiamo neanche se effettivamente magari il prezzo della trazione posteriore rimarrà incentivabile come adesso quindi bisogna fare le proprie valutazioni c'è un altro fattore poi da considerare e questo vale magari per chi non ha ancora ritirato auto o a chi non è interessato una pronta consegna che acquistando oggi un'auto da configuratore poi se tesla dovesse in futuro magari con il refresh aumentare il prezzo voi comunque avete bloccato il prezzo di oggi quindi potrebbe essere sicuramente conveniente ordinarla oggi e non aspettare di ordinarla quando tesla aggiornerà il configuratore ecco questo è un altro aspetto da considerare perché in passato tesla ha sempre adeguato il prezzo in favore del cliente quando ha cambiato il configuratore al rialzo cioè è anche al ribasso nel senso che quando avete ordinato l'auto e il prezzo sale tesla vi mantiene il prezzo precedente oppure se ordinate l'auto il prezzo scende tesla vi adegua il prezzo al prezzo migliore ecco questo ha sempre fatto in passato quindi ecco se siete vicini all'ordine valutate bene tutte queste opzioni ovviamente se volete sfruttare gli sconti e il tasso promozionale dovete prendere una pronta consegna ora invece cambiamo argomento e parliamo dell'aggiornamento 2023.26 che ancora io non ho ricevuto ma oltre a tutte le novità che avevamo già visto sembra che ce ne siano un paio molto interessanti che non sono presenti nelle release notes in particolare una di queste novità è il fatto che quando noi riceviamo una telefonata o facciamo una telefonata per migliorare l'audio della chiamata si abbassa la ventola del climatizzatore e questo è un aspetto molto molto interessante un'altra novità è quella che è possibile variare o limitare il volume dell'avviso per i pedoni quindi siamo in retro si attiva quel suono tipo ufo che a volte effettivamente è un po forte soprattutto in situazioni magari di sera quando dovete parcheggiare in garage e magari rimbomba in un garage sotterraneo ecco c'è la possibilità di limitare questo rumore un'altra novità non riportata è quella di un nuovo posizionamento del della telecamera dello specchietto quindi quando noi mettiamo la freccia possiamo posizionare sul padone proprio dove vogliamo vedere il nostro specchietto virtuale ecco sembra che ci sia un'altra posizione disponibile quindi novità estremamente interessanti anche se non riportate proprio nelle note di rilascio ora torniamo a parlare di configuratore perché da oggi scende il prezzo dei due colori prodotti a berlino quindi il grigio il quicksilver ed il rosso il midnight cherry red perché dai 3.200 euro che costavano fino a ieri adesso costano 2.600 euro quindi uno sconto interessante comunque un abbassamento di prezzo se avete già ordinato delle auto di questi colori verificate se tesla vi adegua il prezzo comunque secondo me potrebbero farlo tranquillamente in passato l'hanno fatto quindi non vedo perché non dovrebbero e ora veniamo ai ringraziamenti e ai saluti lorenzo che ha ritirato la sua model y blu finalmente dopo varie vicissitudini e ha voluto anche festeggiare questo ritiro supportando il canale e mi ha scritto per il tuo tour estivo per festeggiare la nascita di lesta si chiama lesta e soprattutto perché mi sei simpatico grazie lorenzo e grazie mille per il tuo supporto un altro ringraziamento a giampaolo che ha voluto supportare il canale scrivendo grazie per la maglietta plaid non mollare mai a presto perché giampaolo è venuto all'evento del dello scorso venerdì qui al porto di castiglioncello in provincia livorno con la sua model x e mi è capitato di avere una maglietta plaid che mi avanzava glielo ho regalata più che volontieri non era della mia taglia quindi grazie per essere venuto e grazie mille per il tuo contributo un altro ringraziamento a ruggero che mi ha scritto un piccolo supporto per il lavoro impegno che quotidianamente metti nel canale e nel blog che ormai sono diventati la mia fonte ufficiale per il mondo tesla attento è mi raccomando che non sia l'unica fonte perché non esiste la verità assoluta io vi dico cosa ne penso se siete d'accordo bene ma potete anche essere in disaccordo ci mancherebbe altro comunque grazie mille per il tuo contributo e ora veniamo ai ringraziamenti per l'utilizzo dei codici referral per mirza salvatore tonio e claudio vi siete beccati anche voi lo sconto di 500 euro nell'acquisto della vostra nuova tesla mi raccomando le foto quando le ritirate questo è tutto io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao